Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, apriamo tornando a parlare dei casi di legionella, l'ultimo in ordine di tempo come sappiamo è stato quello di una novantenne ospite di una RSA e poi ricoverata all'ospedale della Fratta. Dalla ASL Toscana Sud-Est arriva la rassicurazione che per il momento non ci sono altri casi ma la soglia di attenzione è quanto mai alta. Sentiamo. Si è indubbiamente alzata dopo i due casi mortali dovuti alla legionella la soglia di attenzione all'interno dell'azienda sanitaria Toscana Sud-Est quindi che comprende le province di Arezzo, Siena e Grosseto. Noi abbiamo intensificati i campionamenti fatti direttamente dalla nostra azienda ma l'attività di controllo avviene tutti gli anni per i settori che dicevo che sono anche gli studi odontoiatrici, che sono le strutture turistico-ricettive o agrituristiche, che sono appunto abbiamo detto prima anche le strutture ospedaliere e sociosanitarie e comunque tutti gli ambienti di comunità. Ad alzare la soglia sono stati due casi mortali, due donne ricoverate in tempi diversi e per motivi diversi in due strutture sanitarie e private che poi sono decedute. L'ultimo contagio da legionella nell'Aretino è stata una donna, novantenne ospite di una RSA nella Valdichiana Aretina. Le sue condizioni in questo momento ricoverata all'ospedale della Fratta sono stabili. La signora è l'unico caso attualmente in essere ricoverata con legionellosi, quindi non ci sono casi ulteriori. Via via si presentano dei casi, per molti non riusciamo a risalire nemmeno al luogo, alla fonte di contaminazione da legionella, però nella maggior parte dei casi non riusciamo a individuare motivi particolari. Adesso le indagini dell'azienda sanitaria si concentreranno anche nell'acquedotto. È vero che c'è stato un aumento dei casi, ma si parla sempre di un passaggio magari da 20 a 40, da 40 a 80, cioè sono sempre numeri abbastanza esigui. Comunque ci hanno allertato, abbiamo iniziato a fare anche delle verifiche proprio sull'acquedotto della città, sebbene sia molto improbabile ritrovarvi la legionella e sebbene anche eventuali ritrovamenti di legionella non giustificherebbero l'infezione contratta nelle strutture, perché comunque la struttura deve adottare delle misure per abbattere un'eventuale carica batterica fosse presente nell'acqua. Rapine ai distributori in Altotevere e Valtiberina a Toscana con il macete, lo ricorderete, le avevamo anche noi raccontate, si chiude il cerchio delle indagini. I carabinieri della Compagnia di Città di Castello, coordinati dal luogotenente Fabrizio Capalti, hanno arrestato anche il quinto e ultimo componente della banda. Si tratta di un macedone di 19 anni, da tempo residente nel Tifernate e che è già agli arresti domiciliari. Sempre i carabinieri hanno invece rintracciato un topo d'appartamento e recuperato una refurtiva del valore di circa 10.000 euro, un 34enne pregiudicato. Aveva appunto trafugato biciclette, monopattini e utensili per l'edilizia da 5 appartamenti. Denunciato anche un 24enne per il furto di un'auto. Barboncina sbranata da cani da guardia è successo ad Arezzo e lo ha denunciato proprio l'assessore alla tutela degli animali del comune di Arezzo, Giovanna Carlettini. Episodi inammissibili, ha detto, a causare la morte sarebbero state le ferite riportate durante l'aggressione subita dal cagnolino, anzi dalla cagnolina, una barboncina di appena un anno all'interno del giardino di un'abitazione. La cucciola sarebbe stata aggredita da tre cani da guardia di proprietà di un vicino. Abbiamo deciso, dice la Carlettini, grazie alla disponibilità e all'impegno della Polizia Municipale di incrementare i controlli all'interno di tutte le aree verdi della città, anche con una specifica attività mirata a prevenire e reprimere certi comportamenti appunto dei proprietari dei cani. Gli animali, dice la Carlettini, non possono essere lasciati senza guinzaglio. E adesso parliamo invece della situazione che riguarda la provincia di Arezzo, ormai sulle cronache da diversi giorni, perché insomma ci sono delle querelle tra soprattutto i partiti di centrodestra e l'attuale presidente. E allora la notizia diciamo ufficiale intanto è che il Consiglio provinciale che aveva all'ordine del giorno la discussione del bilancio dell'ente è stato rinviato questa mattina una conferenza stampa del gruppo consigliare Patto Civico. Il Presidente da settimane fa comprendere non solo a noi ma anche altri di essere particolarmente preoccupato. Non riusciamo a capire questa preoccupazione da cosa dipenda. Se è veramente delegata al ruolo che sta ricoprendo e quindi ha una difficoltà a portarla avanti, allora è giusto prendere le determinazioni. Se è dovuta alle pressioni politiche, dobbiamo capire che tipo di pressioni politiche, ma non siamo a conoscenza. Non usa mezzi termini Marco Donati, coordinatore del gruppo consigliare Patto Civico in provincia di Arezzo, nella conferenza stampa convocata per lo slittamento del Consiglio provinciale dal 24 al 29 marzo, con all'ordine del giorno il bilancio dell'ente, Donati invita il Presidente a denunciare eventuali pressioni politiche e aggiunge chiarisca il perché di una frase che ci ha detto molto preoccupato. Polcri avrebbe detto a Donati e Francesco Carbini, io non pensavo che arrivassero fino a tanto. Presidente, io le invito anche a chiarire quella frase simile a cui ci ha detto, se non chiarirà probabilmente abbiamo capito male noi, ma io e Carbini siamo due che un po' per la professione, un po' per la politica, proprio portati dalla piena, non siamo. E quindi ci preoccupo a quella frase simile che ci ha detto e noi invitiamo a precisarla prima possibile e invitiamo i partiti a fare conferenze stampa a centro-destra. Di fatto una crisi, così la definisce la funzione pubblica della CISL, che poche ore fa attraverso il suo segretario Maurizio Milanesi chiedeva un confronto con le sigle sindacali. Oggi Polcri si è incontrato anche con il Partito Democratico che si è dichiarato contrario allo slittamento del Consiglio, ma ancora una decisione ufficiale su quale voto esprimere non c'è. Non ci sarebbe però la volontà di bloccare il bilancio. Il documento unico di programmazione, il bilancio di previsione e il programma trinale ai lavori pubblici viene rinviato per dei emendamenti al DUP che però ci lasciano molto perplessi perché sono due strade che erano già state oggetto di un protocollo firmato dalla Presidente Chiassai nel 2022 quindi ci sembra strano che ora ci sia stata questa dimenticanza. Non vogliamo bloccare l'ente quindi valuteremo se a stenerci sul bilancio ma comunque sono valutazioni che ancora dobbiamo fare. Come al solito noi parteciperemo in maniera propositiva al Consiglio e daremo il nostro apporto. E sulla crisi della provincia si esprime anche il sindaco di Castiglione Fiorentino Mario Agnelli che ha anche un incarico all'interno della Lega quindi insomma in questo caso appunto si esprime come sindaco ma anche come esponente della Lega. Sentiamo che cosa ha detto ai nostri microfoni. Chi voleva occuparsi di problemi della gente facendo un papocchio di questa natura e qui mi riferisco a Donati ha creato la tempesta perfetta perché tutto si parla fuorché di problemi della gente e di una provincia che già è sparita dai radar per le sue competenze anche per i suoi compiti e poi manca di una guida politica che in tutto questo periodo non ha ben capito da quale parte deve stare. Il sindaco di Castiglione Fiorentino Mario Agnelli da poco tempo anche nel direttivo regionale della Lega entra a gamba tesa nel dibattito che in queste settimane c'è attorno alla guida della provincia di Arezzo. Il consiglio provinciale rinviato è l'ultima notizia in ordine di tempo ma Agnelli annuncia di aver dovuto inviare al segretario dell'ente una segnalazione arrivata dai banchi consigliari del suo comune. Ho dovuto riportare quella che è stata un'interrogazione del Consiglio Comunale di Castiglione Fiorentino al segretario della provincia chiedendo l'UMI su presunte irregolarità al momento dell'elezione del sindaco di Anghiari. Parlo di presunte perché non posso sapere se queste irregolarità sono reali o sono fantomatiche. Tuttavia rientra in un contesto in cui l'anomalia di queste elezioni di secondo grado ha visto un candidato, come tutti sanno, di centrodestra appoggiato dal centrosinistra e un altro candidato che era la presidente Chiassai, sindaco di Montevacchi, presidente uscente della provincia appoggiato dai partiti del centrodestra e dai eletti delle liste civiche. Per quanto mi riguarda, ma parlo anche al plurale per i consiglieri comunali di Castiglione Fiorentino, per quanto ci riguarda le elezioni sono andate a pannaggio di Polcri, per cui per me Polcri resta il candidato della lista del Donati, Partito Democratico, eccetera. Se verranno fugate, spazzate via queste presunte irregolarità, tanto meglio. Se non ci sono risposte dovremo cercare di averne in tutti i modi, rivolgendoci anche a un livello diverso, a un livello superiore rispetto al segretario della provincia. Sotto un profilo invece meramente politico, una elezione di questo tipo con mal di pancia di qua e di là, riesce poi a governare un presidente, un amministratore? Certo, io non ho alcun mal di pancia. Evidentemente invece il sindaco di Anghiari sa convivere con questo tipo di situazioni, al posto suo mi sarei già dimesso, però ognuno fa quello che ritiene più opportuno. Oggi credo che la provincia non è in grado di dare risposta a nessuno, né nel centro-destra né nel centro-sinistra. Non sto parlando solo degli eletti, ma anche dei cittadini. Un ripetitore alto 34 metri a Castiglion-Fibocchi. Il sindaco dica no alla richiesta della lista Viva Castiglion-Fibocchi. Riguardo appunto un'attenna che dovrebbe sorgere proprio nel territorio del comune valdarnese. Secondo la lista ci potrebbero essere dei danni ambientali o per la salute dei cittadini. C'è dunque molta preoccupazione. Secondo la lista Viva Castiglion-Fibocchi, il sindaco si dovrebbe opporre. Nuova assemblea del Comitato Emergenza Lupo Arezzo è in programma per venerdì 31 marzo alle 21.15 presso la sala parrocchiale della chiesa di Riguttino, dove si tenne peraltro la prima assemblea pubblica. È aperta alla cittadinanza. Fanno sapere gli organizzatori. Sarà l'occasione per tematiche connesse a quella che loro chiamano invasione della specie Canis lupus nel nostro territorio. parleremo, dicono, anche di cause e di possibili soluzioni tra gli interventi in calendario, anche quello della deputata della Lega, Tiziana Nesini. Ci avviciniamo alle giornate del FAI che per Arezzo significheranno ripercorrere via Garibaldi. Sentiamo perché nel prossimo servizio. Apriremo questa strada chiamata la Via Sacra con la presentazione e la spiegazione di un tratto dove vengono riproposti tutte quelle che erano l'organizzazione, le costruzioni dal 300 ad oggi raccontate dagli studenti del liceo classico di Arezzo, chiamate da noi apprendisti Ciceroni. Sarà via Garibaldi ad Arezzo, anticamente chiamata Via Sacra, al centro del programma aretino della 31esima edizione delle giornate del FAI di primavera ad Arezzo. L'itinerario condurrà il visitatore alla scoperta della trasformazione architettonica di questa strada. Qui nel Medioevo, lungo circa un chilometro, si allineavano numerosi ospedali, monasteri e compagnie laicali. Partiremo alle 14 del sabato dal palazzo, dalla sede della Guardia di Finanza e percorreremo poi, quindi visiteremo la Guardia di Finanza, visiteremo la Chiesa della Santissima Annunziata, la spiegazione di Palazzo Sciocchi e poi di altri palazzi, sino ad arrivare a Piazza del Popolo con la spiegazione della piazza e della Chiesa della Santissima Trinità e anche di un bel pezzo, diciamo, del liceo classico, che è la Fontana del Marsiglia in Pietra, che è all'interno dove oggi è stata riproposta la Sala dei Professori. Sì, noi abbiamo aderito volentieri all'iniziativa del FAI per poter aprire le nostre caserme alla cittadinanza in modo da far vedere un bellissimo immobile che affonda le sue radici nel 300 ed ha ospitato monasteri e da ultimo, a partire dal 1900, anche caserme di particolare pregio. Questa è una bella occasione per condividere, per tutti quegli aretini che hanno conosciuto questa caserma come la Caserma Italia e l'hanno osservata solo dall'esterno, di poterla visitare anche all'interno. Consideriamo che più di recente la nostra caserma è nota perché nel 1997 è stato il set cinematografico del film La vita è bella, quindi un'occasione in più per esserci. Siamo quest'anno doppiamente grati al FAI per averci dato l'occasione sia di riproporre i nostri alunni come apprendisti ciceroni e quindi ragazzi che veicolano la conoscenza del loro territorio alla cittadinanza, ai turisti, ma anche la possibilità di far accedere le persone a questa sede che altrimenti è fruibile soltanto dal nostro personale e dai nostri genitori. Un documento in cinque punti è quello elaborato dai promotori dell'iniziativa sul futuro della sanità a retina fra ospedale e territorio che si terrà ad Arezzo venerdì 24 marzo, quindi domani alle 17.30 nella sala conferenze dell'hotel Minerva. Gli organizzatori, la fabbrica delle idee, il Calcit, le Acli, Arci e Fondazione Cesalpino hanno coinvolto in questo evento anche i sindacati. Questa volta il confronto sarà proprio con il presidente della regione toscana, Eugenio Gianni, al quale sarà presentato appunto questo documento. E siamo allo sport, una giornata e una partita che entrano di diritto nella storia dell'Arezzo calcio femminile nella seconda partita del girone 2 della quarta Viareggio Women's Cup. La primavera di mister Ilaria Leoni ha battuto per due gol a uno la Fiorentina. Volevo fare i complimenti alla squadra perché ha veramente dato tutto oggi, ha giocato come sappiamo giocare e abbiamo portato a casa il risultato, abbiamo fatto secondo me una grande partita sotto tutti i punti di vista anche alla fine dove abbiamo sofferto ma abbiamo sofferto tutte insieme e questa è la cosa che mi rende più felice di tutte. Quello che ho chiesto alla squadra oggi era anche una voglia di riscatto rispetto alla partita di martedì ma soprattutto ho chiesto di essere gruppo perché alla fine è quello che siamo e quindi tutte, dal portiere all'ultimo ma anche dalla panchina perché dalla panchina le hanno incitate fino alla fine hanno dato qualcosa in questa partita e io ripeto, io sono fiera di questo gruppo e ora cerchiamo di conquistare il posto per accedere alla finale. Noi cercheremo, come ho detto prima, di portare a casa il risultato e di fare più punti possibili poi ovviamente dobbiamo vedere anche il risultato delle altre due squadre però ripeto, io sono felicissima sia oggi ma anche della scorsa partita quindi complimenti davvero alle ragazze. Giulia Penso sia bellissimo, vittoria, la prima, l'avrei giocato e per di più in un derby penso che meglio di così non potevo chiedere altro. Noi puntiamo a quello, quando facciamo qualcosa lo facciamo per arrivarci in fondo tutte insieme abbiamo dato tutto perché lo volevamo e continuiamo a sperarci. Venendo invece al campionato di Serie B, dopo l'accordo raggiunto con la Ternana l'Arezzo Calcio Femminile annuncia ufficialmente che la ventiduesima giornata di campionato inizialmente programmata per domenica 26 marzo è stata anticipata a sabato 25 si giocherà alle 14.30 allo stadio Gubbiotti di Narni a Terni. Sono in vendita le magliette presso lo store dell'Arezzo che ricordano il centenario appunto del cavallino l'effetto cromatico è accattivante in entrambe le versioni anche perché il logo ha un impatto visivo davvero bello al centro c'è lo scudo con il cavallino rampante circondato da uno spazio amarante da un cerchio giallo con all'interno la scritta appunto Centenario Arezzo Calcio 1923-2023 ed infine parliamo della Rampichiana che ci sarà domenica prossima questa mattina la presentazione di quella che è la diciottesima edizione. Un percorso agonistico da 43 chilometri con quasi 1500 metri di dislivello e un percorso da cicloturista, da escursionista di 28 chilometri con circa 1000 metri di dislivello anche quello abbastanza impegnativo. Diciottesima edizione della Rampichiana La Rampichiana diventa maggiorenne quindi tante edizioni vogliono dire capacità di organizzare gli eventi in periodi sempre più difficili dal punto di vista logistico e organizzativo per tutti i vari permessi. Noi come amministrazione comunale insieme alla Fondazione Arezzo in Tour abbiamo dato un supporto sia logistico che tecnico che economico anche grazie alla Polizia Municipale siamo sicuri che la manifestazione si svolgerà nel migliore dei modi con oltre 900 partecipanti già iscritti buona parte da fuori Arezzo quindi importantissimo ritorno anche dal punto di vista turistico e recettivo in un weekend che sarà bellissimo pieno di eventi almeno a mio avviso è così quando la città è piena e ricca si apre un po' in anticipo quest'anno la stagione turistica rispetto alla Pasqua grazie agli eventi che stiamo organizzando in collaborazione con le associazioni invito tutti gli aretini a godersi questo weekend ricchissimo ci sarà qualche disagio per la circolazione come sappiamo ma il lavoro della Polizia Municipale sarà come sempre esemplare quindi godiamoci questi eventi che arricchiscono la città un numero di partecipanti è un percorso per me molto bello che si snoda partendo da Piazza Grande fino a raggiungere i poti e poi ritornando in dei percorsi tecnici molto importanti e è una valorizzazione della nostra città di Arezzo è un bel biglietto da visita non solo per la nostra splendida Alpe di Poti ma è un biglietto da visita per la città stessa perché oltre l'80% dei partecipanti provengono da fuori Arezzo per cui è veramente non sto a guardare l'indotto che sarà per ristoranti e hotel ma più che altro è veramente una Arezzo si presenterà come una bella donna da ammirare è tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per l'attenzione e arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti